Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera. Ancora un'allerta meteo dopo quelle che si sono ripetute negli ultimi giorni. Codice giallo fino alle 21 di oggi e codice arancione a seguire dalle 21 fino alle 13 di domani. Il bollettino meteo è stato emesso dal centro funzionale regionale che prevede temporali e conseguente rischio idrogeologico su buona parte della Toscana, inclusa la zona B che è quella che comprende tutto il territorio pratese. L'allerta meteo ha spinto l'amministrazione comunale a sospendere il Luna Park aperto oggi pomeriggio in Viale Marconi. Giostre, ferme, luci spenti a partire dalle 21 e ovviamente niente fuochi d'artificio. Lo spettacolo pirotecnico è stato rimandato. La fase più intensa dell'ondata di maltempo è prevista nella notte con temporali che potranno essere forti e persistenti e che potrebbero essere associati anche a colpi di vento e grandinate. Il sistema di protezione civile a Prato è attualmente in fase di attenzione in modo da essere in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità. Quindi, lo vedete nelle immagini, il Luna Park inaugurato oggi che sarà aperto fino al 16 settembre, subito stoppato dall'amministrazione per questa allerta meteo. Dopo dieci giorni di indagini serrate, la polizia ha individuato e denunciato i tre pakistani che la sera di Ferragosto in Piazza Ciardi hanno aggredito e ferito a colpi di taglierino tre loro connazionali nell'ambito di un regolamento di conti per il furto di una bicicletta. Si tratta di un 56enne e di un 25enne con precedenti e di un 26enne. Tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno, devono rispondere di lesioni personali aggravate dall'uso del taglierino e di una sella in metallo di una bicicletta usata per picchiare una delle vittime. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, alla base della violenta aggressione, il furto di una bicicletta avvenuto il 7 agosto. 300.000 euro di debito col fisco, cede i tre appartamenti per evitare l'ipoteca, ma finisce sul banco degli imputati. Una imprenditrice è stata condannata. Sentite. Si sbarazzò di tre appartamenti per evitare la trascrizione dell'ipoteca giudiziale, frutto del mancato pagamento di oltre 310.000 euro di imposte sul reddito e IVA. La Corte di Cassazione ha confermato un anno di reclusione a carico di un'imprenditrice cinese di 49 anni, condannata nel 2014 dal Tribunale di Prato e nel 2017 dalla Corte d'Appello di Firenze per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. I fatti risalgono al 2011. La donna, titolare di una ditta a Prato, passò gli immobili di sua proprietà a una connazionale, sua dipendente, in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2007-2008, valore 313.000 euro. Gli avvisi furono notificati a maggio del 2011 e quando a luglio la Commissione Tributaria Provinciale recepì la richiesta di emettere il decreto di iscrizione di ipoteca giudiziale, i tre appartamenti dell'imprenditrice erano già stati trasferiti da qualche giorno alla sua connazionale. Gli immobili, come hanno ricostruito i giudici, erano stati venduti tramite l'accollo del mutuo che gravava sugli stessi e che corrispondeva allo stipendio annuo della nuova proprietaria. L'accusa, per dimostrare la fondatezza del reato contestato, aveva dimostrato che l'imprenditrice aveva continuato ad abitare uno degli appartamenti, mentre l'acquirente non ne aveva mai utilizzato alcuno. È un richiedente asilo con numerosi precedenti. Il 26enne arrestato dalla polizia ieri pomeriggio per spaccio di droga, l'uomo di nazionalità nigeriana è stato bloccato sulla pista ciclabile tra Ponte alla Vittoria e Via della Robbia. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile sono entrati in azione dopo aver visto lo scambio tra il 27enne e una giovane che è stata fermata e trovata in possesso di un grammo e mezzo di eroina. La tossicodipendente, una giovane italiana, 22 anni, ha subito ammesso di servirsi dal nigeriano che quindi è stato bloccato e trovato con 230 euro provento dell'attività di spaccio. Hanno litigato per un debito di 300 euro e uno ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro l'altro minacciandolo. È successo la notte scorsa in un'abitazione di piazza mercatale, protagonisti due nigeriani. Le loro urla hanno spinto i vicini a chiamare la polizia che è arrivata sul posto, si è trovata davanti a uno dei due che minacciava l'altro impugnando un coltello. I poliziotti sono riusciti a riportare la calma e a ricostruire il motivo della discussione. L'uomo che ha impegnato il coltello è stato denunciato per minacce aggravate. Tutti e due poi si sono fatti medicare dai sanitari dell'ambulanza inviata dal 118 per le lievi ferite al volto riportate durante il litigio. Ha offerto 200 euro agli agenti di una volante invitandoli a non sottoporlo all'alcol test. Il gesto è costato la denuncia per istigazione alla corruzione a un cinese di 55 anni. L'uomo è stato fermato intorno alle 3 della notte scorsa in via Scarlatti. Era alla guida di un'auto di grossa cilindrata. Evidente il suo stato di ebrezza, tanto che i poliziotti hanno deciso di effettuare l'alcol test. Il 55enne, quando ha capito che per lui si metteva male, ha tirato fuori il denaro chiedendo agli agenti di soprassedere. I soldi sono stati sequestrati, lui è stato, come abbiamo detto, denunciato. SOS presidi, ce ne sono pochi, aumentano le reggenze. Il dirigente del Marconi dice che la situazione quest'anno è drammatica. Sentite, Alessandra Grati. A Prato è emergenza dirigenti scolastici. Il preside Paolo Calusi dell'Istituto Comprensivo Margherita H. di Montemurlo sarà trasferito a Castiglion dei Pepoli, lasciando così vacante anche la reggenza dell'Istituto Comprensivo Castellani. Due incarichi che probabilmente saranno assegnati in reggenza ad altri presidi. Ci sarà un dirigente a reggenza, però ecco, quello che noi speriamo è che questo nuovo dirigente possa concentrarsi anche un po' su Montemurlo, perché Montemurlo è un istituto comprensivo, complesso, come è complesso anche il territorio di Montemurlo, perché abbiamo tanti bambini stranieri, quindi anche classi con percentuali molto alte. Nell'Istituto i progetti che vengono fatti sono anche progetti molto dedicati all'inclusione e al contrasto dell'abbandono scolastico, e quindi abbiamo bisogno di continuità. Un problema nazionale che però avrà una soluzione nel lungo periodo. A luglio sono iniziate le preselezioni per il concorso, un ITER che durerà diversi mesi e quindi potrebbe non assegnare i posti neppure per l'anno scolastico 2019-2020. La situazione anche quest'anno a Prato è la stessa dell'anno scorso, anzi direi si è aggravata perché sono due comprensivi abbastanza importanti, anche di dimensioni notevoli, senza dirigente, per cui sicuramente verranno assegnati a reggenza. Per cui a Prato penso ognuno di noi avrà almeno due scuole da gestire. Intanto a Prato, oltre alla reggenza di Pierucci, c'è anche quello di Mario Di Carlo, dirigente al liceo Rodare e al liceo Classico di Via Baldanzi, di Stefano Pollini al liceo Keynes e al comprensivo Lippi, di Daniele Sant'Agati al Datini e al comprensivo Pertini di Vernio, di Sandra Bolognesi al Lippi e alla Don Milani e di Maria Gabriella Fabri al Dagomare e all'Istituto Pacetti. Pratesi, popolo di scommettitori, primi in Italia per valore delle puntate rispetto al numero delle agenzie. Parliamo delle scommesse sportive. Si scommette e si punta a Prato con le sue 44 agenzie di scommesse sportive che nei primi sette mesi del 2018 hanno totalizzato ognuna una base imponibile media di 684 mila euro, è la città con la raccolta più elevata in rapporto ai punti vendita. Lo dice l'ultimo rapporto di AGMeg, l'agenzia giornalistica sul mercato del gioco, che ha elaborato i dati dei monopoli di Stato. Prato conferma la prestazione già registrata con rapporto riferito ai primi sei mesi di quest'anno. Alle sue spalle Bolzano, che in termini di raccolta rispetto alle agenzie disponibili sul territorio segna una base imponibile di 420 mila euro, ben lontana da quella pratese. Nel complesso la raccolta delle scommesse sportive giocata in agenzia tra gennaio e luglio è stata di 2 miliardi e mezzo, con un ritorno in vincite di poco superiore a 2 miliardi e questo significa che la spesa effettiva degli italiani è stata di circa 490 milioni. Napoli, con le sue 1263 agenzie, occupa il primo posto della classifica quanto a raccolta, oltre 376 milioni per una spesa effettiva di quasi 71,5, seguita da Roma, Milano, Salerno e Bari. Prato si ritaglia un suo posto al sole nel panorama italiano perché l'ammontare delle giocate è il più alto se si tiene conto del numero delle agenzie aperte sul territorio, 44, a fronte degli introiti più elevati registrati nelle altre città, dove però le agenzie sono centinaia. Il Comune di Montemurlo passa all'anagrafe nazionale, più facile il dialogo tra amministrazioni pubbliche, si prevedono anche agevolazioni, facilitazioni per i cittadini quando il sistema finalmente entrerà a regime in tutta Italia. Sentite di che cosa si tratta da Alessandra Grati. Il Comune di Montemurlo entra a far parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Il sistema che accorperà i dati delle oltre 8.000 anagrafe dei comuni italiani. Una procedura che renderà più semplice il dialogo fra gli enti, semplificando e velocizzando numerose pratiche come i cambi di residenza, i censimenti, l'iscrizione e le cancellazioni dall'anagrafe o le richieste della carta di identità elettronica. Significa un portale unico per tutte le anagrafiche dei cittadini. Quindi questo significa dei vantaggi da parte del cittadino e dei vantaggi da parte dell'ente. Nello specifico il cittadino potrà richiedere anche in un comune diverso da quello di residenza le certificazioni perché appunto si potrà attingere ad una anagrafe nazionale. Anche i rapporti fra gli enti saranno semplificati. I ministeri, l'Inps, l'INAIL, tutti coloro, anche la motorizzazione civile, addirittura l'Agenzia delle Entrate, che hanno bisogno di reperire informazioni al cittadino, non le chiederanno più al cittadino, ma le chiederanno direttamente all'archivio centrale che sarà messa a loro disposizione da parte del Ministero dell'Interno. Le complesse pratiche per il passaggio all'anagrafe nazionale e la formazione degli operatori che useranno il nuovo sistema richiederanno però la temporanea sospensione del servizio anagrafe, che martedì 28 agosto sarà aperto solo dalle 12 alle 13 per le pratiche più urgenti, mentre rimarrà completamente chiuso giovedì 30 agosto. È stato fatto un lavoro di due anni circa, in cui sono stati corretti tutti gli errori e tutte le imperfezioni per poter passare alla NPR. Sono stati orretti circa dai 2 a 4 mila records, ad ogni record corrisponde un cittadino, per cui si è fatto un lavoro notevole di purificazione degli archivi. È tutto, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.